È un momento molto difficile in Valdichiana, ad Arezzo, in Valdar, non può in tutte le vallate, ma qui siamo in Valdichiana lungo la regionale 71 e le frazioni, comprese nel comune di Arezzo ma anche negli altri comuni limitrofi, sono state oggetto le abitazioni di molti furti. Portavoce di una sorta di rivolta dei residenti, Alessandro Beatrice. Alessandro, tu sei andato anche dalla prefettura, che cosa ti è stato detto? Dopo gli eventi che si sono verificati nelle frazioni, mi hanno dato l'appuntamento in prefettura, sono andato a parlare in prefettura, mi hanno detto che sono sceltamente al corrente di questi brutti episodi, hanno rafforzato le pattuglie nella nostra zona, io ho chiesto come a Treviso che vengano disposte alle nostre forze dell'ordine droni notturni e visori a raggi X. Non è soltanto questo, però tu hai scritto anche al ministro Crosetto. Penso che sia giusto tenere informato da cittadino il ministro della difesa Crosetto, gli ho scritto solamente che la situazione ad Arezzo, parlo da Alessandro ma come portavoce degli abitanti, delle frazioni, non è più tollerabile, in quanto potrebbero venire, potrebbero innescarsi reazioni umane, perché trovarsi faccia a faccia o avere paura di andare a dormire e sentire qualcuno che apre una finestra o trovarsi lì in casa o nel giardino nasce una colluttazione, all'80% nasce una colluttazione. Dopo la persona non va a pensare tutte le problematiche che possono essere lì per lì, cerca di difendere la famiglia, i figli, la moglie e l'abitazione e quindi è giusto che il ministro sappia di questa realtà.